Buongiorno a tutti, oggi citiamo la chiesa di San Nicolò Cessna di Lazzano, la memoria di un concerto di quattro campane, adesso ascolteremo sempre il mezzodorno, tu le fantà posso vedere, c'è il campanone, c'è il mezz'antra di zona soledore, tu lo soffermi in alto perché non funziona più e quindi a presto doordo campanone, io te lo scudo a tutti, ciao! San Nicolò Cessna 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 San 45 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.